il 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 partita non qui il 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 dic 14 its e poi dai, i vari punti 44, 236, 44, 246 e qui passano il testo 4, resti appunti, dopo due paguati e questo è quello del mio nuovo 48, 27, 44, 27 Simo, Simo la devo provare sulla prossima data 46... 46, 39 quando si può si mette adesso 69, 40, 60, 69, 40 parto di qua eh, Simone devo partire di qua, devo partire di qua in questo momento la risoluzione è ancora sempre lavorabile, è ancora possibile 46, 286, 486 no no, dietro, 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 dietro punto di meno 5, fermo questo è il punto che sta andando qui 50, 286, 50, 26 no, Simone la scia adesso, stai largo e vai in scia, stai largo e vai in scia 2 punti importantissimi per Simone da Patera adesso sono 6 e ha largato i punti e passa nel 7 e non è pronto, non è proprio il caso e siamo a metodo 235, 50, 25, 100 io stai largo, stai largo, lascia di andare, stai scia lascia di andare, vicino, vicino sono 7, ragazzi appunti, sono 7 ancora 0, 2, 1, e troviamo il finale 286, 27, 26, 27 Continua, continuo, 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 continuo. Vai Matteo, vai! Andate a tutti, anche la stagione subita, e se è il nostro nostro, non basterà più, ma è subito benificato. Pronti della campana, per l'ultimo gioco. 46, 45, 46, 45. Bene, la stagione di passare Faganali che è. Tranquillo, arriva in relax. 46, 286, 75. Bravo ragazzi, bravo ragazzi. Bravo ragazzi. Bravo ragazzi. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, nggak, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, nggak, 5, 9, nggak, 6, 8, 9, nggak, 6, 9, nggak, 6, 1, nggak, 5, 3, 1. È un'altra, 5. 5, 2, 1, Na, 5, 5, 7, 1. 5, 1, 2, 1. Buon appetito. Andiamo qui ad ora a Vigione. Il 7 della prima. Per la prima 14. E siamo sempre in fondo. Ci sono partecipi spavati. 77.14. E la battaglia in 2. A prendere i punti disponibili. Quali di meno 11. Ma siamo già a meno 10. 3.14. 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 2.14. 3.14. 3.14. 2.14. 3.14. 4.14. in questo momento comunque si chiudica taglia pure nisi e cavolo ora siamo già ai punti di mani morto 267 di fronte 267 1, 2 1, 2 2, 3, 4 3, 4, 4 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 2, 3, 5 2, 3, 4 Siamo già tra gli ultimi 5 minuti, 1.200 minuti e 3 minuti. Il profulo, 7-7, 1-8, 6 minuti e 3 minuti. 1.4 1.4 1.4 1.4 1 1 Caciuto! 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 Vai, vai Andre! Vai Simo! Sì, Simo! Di tocca e tocca, una tocca, una tocca. Vai, dai, andiamo, fessi alla votazione. Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Go on, la campana, passano in sette! Dai, Andre! E sono sette gli ragazzi punti. Sì, go on, la campana. Il 3-4-4, un 4-9, con 405, con 405. E c'è la mia, la nuova finale. 3, 4, 3, 20, 9, 77 Lo voglio di essere così, lo voglio di essere così Ovviamente, pubblico solamente Su un'istruzione di Sinochia Lo voglio di essere così